Io ho una ragione in più per ringraziare Antonello, anzi lo faccio ringraziando te ma ringraziando i cittadini di Alatri perché mi hanno tributato, grazie a te e a tante altre persone, mi hanno tributato un grande successo elettorale qui ad Alatri, io devo dire che sono tra i più votati qui a Alatri e quindi vi ringrazio, vi faccio io a voi un applauso perché ve lo meritate e quindi siete stati straordinari. Grazie quindi Antonello, grazie a tutti voi, essere qui in piazza non è un fatto occasionale, la scelta di stare in piazza è una scelta di coraggio e di trasparenza, siamo qui in piazza, non siamo in una stanza polverosa, non stiamo in una stanza o in una sala al chiuso, siamo nella piazza di tutti, siamo nel centro sotto gli occhi di tutti e quindi quello che diciamo arriva a tutti e quindi quello che diciamo è come dire un atto sicuramente di coraggio ma è anche un atto di trasparenza perché vogliamo che la trasparenza sia la prima regola della politica. Il grande successo avuto da queste formazioni di incompetenti non è colpa degli elettori, io credo che sia colpa della politica, forse ci meritavamo qualcosa del genere, forse era necessario attraversare un tempo di questo tipo per comprendere che il cammino della politica deve riprendere in maniera diversa. E vedete, proprio in questo tempo emerge una figura, quella di Giorgia Meloni, che è il simbolo della coerenza e del rapporto col cittadino. Le cifre e le percentuali che leggiamo in questi giorni sono da capogiro, sinceramente non erano neanche immaginabili qualche tempo fa, ho letto che è il 17-18%, quindi cifre importanti di grandi masse di cittadini italiani che si riconoscono sulle posizioni di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni. Questo non è un fatto casuale. Forse, forse avevamo bisogno di un tempo come quello che abbiamo vissuto, per recuperare con noi stessi una voglia di ripartenza, un nuovo legame con i cittadini, perché la politica forse si era allontanata troppo dai cittadini, un po' per i sistemi elettorali, un po' per tante ragioni, che adesso non è questo il luogo per poterlo indagare, ma certamente la politica si era allontanata. Ecco, quello che in questo momento gli italiani stanno tributando con i sondaggi, ma i sondaggi è vero che sono sondaggi, però sono, come dire, una indicazione di una certa situazione, c'è sicuramente un forte fondamento. E se gli italiani riconoscono a Giorgia Meloni, a Fratella d'Italia, queste percentuali così importanti, vuol dire che gli italiani hanno compreso che è partita una nuova storia, che forse possiamo incominciare a recuperare un rapporto più profondo con le nostre comunità, con la radice più profonda della storia politica di questo paese, una grande storia. E questa provincia di storia politica ne ha da vendere, perché qui su questi comuni della provincia di Frosinone si sono esercitati grandi personaggi della storia italiana. Ecco, io credo quindi che sia giusto che questo accada, che sia giusto qui in questa provincia proprio ripartire da Alatri, Antonello, io so quanto ti è cara Alatri, insieme abbiamo visto tanti momenti in Consiglio regionale, Iannarilli era uno che quando eravamo all'opposizione c'era qualcosa che non andava per il suo verso, insomma che qualcosa che non gli piaceva, saliva sul banco e cominciava a urlare, insomma interrompeva i lavori del Consiglio regionale. Cioè insomma Antonello Iannarilli è uno che è un combattente, è stato un combattente in Consiglio regionale, sempre a tutela della sua provincia e naturalmente della sua città. Ecco, che riparta da Alatri un sano senso di nuova realtà politica. Perché moderati del centro-destra di Fratelli d'Italia? Insomma io ho una storia diversa, certamente da quella del mio amico Francesco Lollobrigida e da Giorgia Meloni, ma proprio per questo, proprio perché vengo da una storia diversa, come tanti amici che sono qui presenti, Iannarilli, Aurigemma, altre persone, e forse abbiamo compreso che era giunto il tempo di mettere insieme le cose che ci univano, le cose positive e magari accantonare cose che potevano manca dividerci. Ma sulle grandi questioni della nostra società ci siamo ritrovati d'accordo con Lollobrigida e Giorgia Meloni. Perché è vero che venivamo da posizioni diverse, io storicamente sono stato sempre un democristiano, e quindi cresciuto in un tempo diverso, in una situazione diversa, in un contesto diverso. Ma sulle grandi questioni ho trovato in Giorgia Meloni, in Francesco Lollobrigida, in Fratelli d'Italia, ho trovato omogeneità di pensiero, perché la pensiamo nello stesso modo sulle grandi questioni, sulla patria, sulla famiglia, sulle questioni sulla solidarietà, sull'ordine, sulla giustizia, sul sociale. Ecco, la pensiamo nello stesso modo. Magari veniamo da posizioni diverse, ma la cosa importante è che andiamo verso obiettivi comuni. Perché abbiamo capito insieme che possiamo fare un lungo tratto di strada nell'interesse dei nostri concittadini. E quindi partiamo da Alatri per iniziare un nuovo percorso, per mettere insieme posizioni diverse, ma che convergano sulle grandi questioni e soprattutto sulla soluzione dei grandi temi che riguardano i nostri concittadini. Grazie e buona serata.